Buonasera a tutti, sono Antonio Celentano, il responsabile commerciale della Over the Top qui di Castellammare di Stabbia. Con Yamamoto Italia abbiamo organizzato questo evento in sinergia tra motori e musica. Una bella esperienza che ha portato un po' gli appassionati sia del settore audio che del settore moto in questa serata particolare dove riusciamo a dimostrare ai nostri clienti cosa vuol dire rappresentare Yamaha sul territorio. Quindi è una bellissima esperienza e è un'esperienza sicuramente da ripetere e da migliorare.